Dignità e correttezza hanno sempre ispirato il mio modo di fare politica e sono proprio questi i due concetti ad avermi spinto a lasciare il ruolo di Vice Sindaco del Comune di Battipaglia. Esordisce così il Dottor Ugo Tozzi, a pochi giorni dalla dimissione in blocco del gruppo, che a lui ha fatto capo a partire dalle elezioni comunali e che vedeva insieme a lui Michele Gioia, Francesca Napoli e Laura Toriello, Assessore del Comune di Battipaglia. Il perché di questa scelta sofferta, come tutte le scelte che si operano, è chiaro a tutti e non accetto simillanti su spartenze di poltrone, nomi e numeri di Assessori, come è stato costantemente ribadito dalla Sindaca e dalla maggioranza nel corso di questi due anni e come è stato dichiarato a chiare lettere nel corso dell'ultima riunione di maggioranza alla presenza dei responsabili dei partiti. Il vero male di questa amministrazione era il sottoscritto e il gruppo che mi rappresentava. Ed ancora sottolinea, non abbiamo messo in crisi nessuna amministrazione, la Sindaca e la sua maggioranza possono governare, ma io non voglio più essere responsabile di tutto quello che viene fatto o non fatto in questa città. La mia dignità e il mio non essere attaccato alla poltrona mi hanno costretto a prendere questa decisione. E per rispetto nei confronti della città e dei 6.000 elettori che hanno votato Francese al turno di ballottaggio perché glielo ho chiesto dei palchi e glielo hanno chiesto i miei candidati, ho dovuto rassegnare le dimissioni. Avevamo sottoscritto un patto, un patto che non era legato alle poltrone, ma un patto che ci voleva vedere insieme, con pari dignità nel governo della città, per cercare di fare bene. In conclusione, Tozzi ribadisce. Questa è la verità. Il dato di fatto è che dopo aver sentitamente ringraziato coloro che con me hanno abbandonato le loro famiglie, le loro professioni, per mettersi a disposizione del bene della città e mi riferisco a Michele Gioia, Francesca Napoli e Laura Toriello. Io faccio un passo indietro. A rappresentare la coalizione di Tozzi resta il consigliere Gemma Caprino, che porta l'onere e l'onore di rappresentare non solo i suoi elettori, ma i 6.000 voti che insieme abbiamo raccolto alle precedenti elezioni amministrative.